Intossicati durante i lavori di pulizia e di disinfezione della piscina, è accaduto a metà mattina nell'hotel Thermal Palace maggiorato a ridosso della passeggiata pedonale della cittadina termale. Sette clienti finiti in ospedale tra Abano e Padova. Si tratta di due padovani e di un gruppo di turisti toscani, tra i quali una bambina che è stata trasportata in pediatria a Padova. Secondo una prima ricostruzione erano in corso i lavori di pulizia delle acque termali della piscina con il cloro. Le esalazioni, inavvertitamente, si sarebbero fatte strada nelle condutture dell'albergo, arrivando fino alle camere degli ospiti. Nessuno dei feriti è grave, tutti sono stati dimessi. Sul posto i carabinieri, gli ispettori dello Spisal e il nucleo NBCR di Vigili del Fuoco di Padova per i rilievi del caso.